Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Stranger Things 4. Abbiamo avuto finalmente il terzo e penultimo teaser per Stranger Things 4. Prima di avere sicuramente un annuncio ufficiale, sappiamo che questi teaser di questa piccola collezione saranno quattro, è stato presentato in occasione dell'evento To Doom di Netflix, che ha durato ben tre ore, e in tanti mi state chiedendo, ma Nick ripubblicherai tutta la live qui su YouTube con tutte le reaction, eccetera eccetera? La risposta è purtroppo no, perché c'è un problema di desincronizzazione, ma posso mettere dei ritagli, quindi fatemi sapere se lo volete. Comunque, per chi la vuole rivedere, che chi se l'è persa, per chi vuole avere tutte le novità, ve la lascio in descrizione, c'è ancora il VOD, ovvero Video On Demand, ancora disponibile, ed è la live fatta con Henry, del pensiero di Henry, quindi andatela a vedere, c'è il mio parere, il suo parere, ed è molto molto bello. Parliamo però dell'argomento caldo di Stranger Things, che è stato presentato questo nuovo teaser, e ora l'andremo ad analizzare. Il teaser parte con una famiglia, una famiglia non casuale, il cognome di questa famiglia è Krill, e per chi sa, per chi già ha sentito questo cognome, sa già di quale famiglia, molto probabilmente si tratterà, per chi invece non la conosce ve lo spiegherò tra pochissimo. Questa famiglia si è trasferita finalmente in questa nuova casa, non è detto che sia Dawkins, non è detto, non è una cosa confermata, e che quindi questa famiglia si è fatta una nuova vita, vediamo un padre, una madre, due figli, un maschio e una femmina, molto piccoli, molto giovani, segno che vogliono ricominciare da capo, avere una vita felice, e infatti sono tutti molto molto sereni, molto soddisfatti di questa nuova scelta, di questa nuova vita, di questa nuova casa. Il padre della famiglia che vediamo qui, molto sorridente, molto soddisfatto finalmente di questa scelta, è interpretato da Kevin L. Johnson, presente anche nella serie tv di Netflix Ozark. E tra l'altro, se prendiamo il personaggio in questione, ovvero l'attore Kevin L. Johnson, e lo paragoniamo a com'era Robert Englund quando faceva Freddy Krueger, vediamo che c'è una certa somiglianza a Robert Englund che sarà presente anche nella quarta stagione di Stranger Things, ripetiamolo, l'attore di Freddy Krueger, l'ex attore di Freddy Krueger, e il personaggio che interpreterà in Stranger Things non avrà un nome qualsiasi. Come si chiamerà? Lo sappiamo, sarà Victor Krill. Krill, esattamente, lo stesso cognome. Ci viene quindi spontaneo pensare che quell'uomo interpretato da Kevin L. Johnson sia proprio Victor Krill, da giovane, negli anni 50, 30 anni prima. E che ora, come sappiamo, Victor Krill è rinchiuso in un manicomio. Quale sarà il motivo? Lo scopriamo tra pochissimo analizzando il teaser. Infatti dopo pochi secondi vediamo una scena in cui il padre e il figlio sentono qualche rumore, ma non qualche rumore casuale. Infatti da di a poco le luci iniziano a sfarfallare, un segno tipico, come abbiamo visto nelle altre tre stagioni, della presenza del sottosopra, di una certa sovrapposizione tra il mondo reale e il mondo dell'upside down, del sottosopra. Che stia quindi per ricomparire fuori? La risposta l'abbiamo subito dopo. Vediamo infatti nel cortile della casa della Claremont House, della Krill House in un certo senso, un coniglio purtroppo squarciato, segno che qualcuno l'avrà sbranato. E una caricassa di un corpo così purtroppo mal ridotto ci fa ricordare ciò che avvenne nella Brimbone Steelworks, l'acciaieria della terza stagione dove fu rapito Billy, dove alcune caricasse di topi in quel caso si riunirono per comporre un mostrone sottosopra, una scena un po' da volta stomaco, che però comunque è un chiaro richiamo a questo teaser. Dagli a poco vedremo una scena alquanto triste, alquanto macabra, dove vediamo i due poveri bambini, i corpi dei due poveri bambini, stesi per terra, forse morti? Speriamo di no, ma è probabile pensarlo. E davanti a loro c'è in piedi il giovane Victor Krill, che gli dà però le spalle, non possiamo vedere com'è la sua faccia, se in qualche modo è controllato dal Mind Flayer, chissà, non lo sappiamo, che li abbia uccisi forse lui, o che abbia assistito a qualcosa di davvero macabro, di qualcosa di davvero traumatizzante. Perché è l'unica persona viva rimasta in quella scena? Che fine ha fatto sua moglie, la madre dei due figli? È ancora viva? O addirittura può essere una persona che è ricondotta alle altre stagioni di Stranger Things? Chi lo sa, lo sapremo molto molto presto. Ciò che comunque sappiamo è che Victor Krill verrà rinchiuso in un manicomio, quindi riprenderà sicuramente coscienza di ciò che ha fatto, o di ciò che ha visto, o di ciò che forse ha visto e ha raccontato, e per la quale è stato forse preso per pazzo. È possibile che sia stato ad esempio condannato come criminale, ma in quanto creduto pazzo e sia stato rinchiuso in un manicomio? È possibile come scelta? È possibile come idea? Che sia stato visto quindi come farneticante? Non si sa. Cioè, è possibile. È rinchiuso in un manicomio. 100%. Come potremo però rivedere un nuovo Victor Krill all'interno di un manicomio? Lo scopriamo anche questa volta, continuando con il teaser. Infatti la bellissima vetrata della porta di questa casa viene rotta, anche se appunto sembrava immutata e abbandonata da più di 30 anni, e vediamo che appunto viene aperta questa porta. Da lì dentro entrano Steve, Max, Dustin, Lucas, Nancy e Robin in cerca di indizi. Come tra l'altro dicono anche nel corso del teaser, di quali indizi sono in cerca? Perché sono andati in quella casa? Cosa dovranno mai trovare in una casa abbandonata? Tra l'altro è bellissima la frase che cita Dustin, in una frase di Sherlock Holmes, ovvero il mondo è pieno di talmente tante cose ovvie che nessuno si prende mai la briga di osservare. E forse saranno proprio queste cose, date per ovvie, che ci ricondurranno a una spiegazione su quella casa, sul mondo del sottosopra. Infatti forse l'indagine legata a quella casa potrà ricondurre il party, Dustin, Steve, tutti loro, a Victor Krill e magari riuscire addirittura a parlargli, a chiedergli qualcosa, qualche informazione e finalmente il povero Victor, dopo più di 30 anni, potrà avere qualcuno che crede alle sue parole, che possa rivelarsi una pedina importantissima per la ricerca, per la scoperta di questo oscuro, segreto, tenebroso mondo che sta minacciando seriamente il globo, sarà sicuramente una domanda che avrà una risposta nella quarta stagione. Tra l'altro una cosa che mi è piaciuta davvero tanto di questo teaser e che spero si replicherà negli episodi, in tutti gli episodi, è il fatto dell'esplorazione, della ricerca, dell'investigazione, come vediamo infatti dalle pochissime scene viste in questo teaser. Se l'indagine del party, che come sappiamo ormai è smembrato un po' qua, un po' là, fin dov'è, è forse con l'Elfair Club, ma che è stato escluso dal party o si è estragnato egli stesso, non lo sappiamo. Will e Undyci sono da un'altra parte ancora, quindi il puzzle si dovrà comunque legare in qualche modo alla fine. E mi piacerebbe, come detto, che questi personaggi che abbiamo visto in questo teaser, Lucas, Max, eccetera, si concentrino su una fase investigativa. Sarebbe, secondo me, davvero intrattenente. Questo è il teaser 3, ma il teaser 4, quando esce? È una domanda che molti si pongono, lo sappiamo, eravamo in cerca, ansiosi di vedere il terzo teaser che è arrivato e ora vogliamo il quarto. Una data da appendere nel calendario secondo me è quella del 9 novembre 2021, non è una data a caso. Infatti il 9 novembre è lo Stranger Things Day, un giorno non affatto casuale, un giorno importantissimo per gli amanti di Stranger Things. Come sappiamo, il 9 novembre Stranger Things, la pagina ufficiale, ci dice sempre qualcosa di nuovo. Speriamo che quest'anno ci riveli almeno un nuovo teaser. Voi cosa vi aspettate? Comunque se volete prepararvi nel modo migliore per lo Stranger Things Day oppure volete fare dei regali a qualche vostro amico, amante anche egli di Stranger Things, vi lascio nella descrizione di questo video degli articoli davvero molto interessanti e belli per gli amanti di Stranger Things da poter regalare. Comunque un'altra mia riflessione su Stranger Things, su questo teaser, su questa casa, è che non sarà ad Hawkins e che quindi questa fase investigativa sarà completamente decentrata da Hawkins. Infatti sappiamo, come detto già in altri video, che non saremo più in questa nuova stagione a Hawkins, a parte chiaramente le battute iniziali. Comunque, voi cosa ne pensate di questo teaser? Siete stati soddisfatti dalla visione di questo teaser? Vi fa crescere l'hype? A me tantissimo, sempre di più. Scrivetemi comunque ogni vostra riflessione nei commenti e per rimanere sempre aggiornati sulle novità di Stranger Things, sulle novità del canale, dei nuovi video, eccetera eccetera, seguitemi su Instagram, anche in questo caso, link in descrizione. Noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!